Benvenuti in questo gameplay estemporaneo, allora scegliamo uno dei giochi più potenti, Arcade, ecco, abbiamo Pong, Pong è uno dei giochi migliori in assoluto, il nostro panorama videoludico. Ecco, dopo che si carica il gioco direi di prendere il joypad, eccolo, il joypad che serve sia per telefonare che per giocare, x quitta, y start, perfetto, perfetto. E devo dire che i comandi sono piuttosto complicati da fare con una mano sola, ma il buon Reddits riesce anche in queste diobono. Ok, ecco così, è meglio. E' complicato con questi comandi diobono. Vediamo se... porca troio. C'è un input lag imbarazzante, quasi meglio il gioco degli anni 70. Iniezione, porca troio. Cioè facciamo affare un punto, si è calaggato pure il gioco. Sono bravo, sono... porca troio. 5-0. Non è il massimo il gioco di riferimento. C'è da dire che... non siamo ancora partiti. Attenzione, nooo. Ho quasi perso. La vittoria. L'ho preso, non so nemmeno come... ok, ci sono. Bene. Porca troio, ma che cappotto. Attenzione, ce la lascio. Nooo. Ma quanti si arrivano? Già, un punto, almeno un punto per la vittoria. Questo gioco dalla tridimensionalità folle. Tanto le persone stanno entrando. Ho perso. Bene. Per un altro gameplay entusiasmante, seguiteci.